Musica Ciao, sono Fioremani e conduco Camila Store e disegno con fiore sul canale 47 di Super della Degostini Come sono arrivata in tv? Io frequentavo l'istituto europeo di design con l'indirizzo moda e un giorno nella bacheca accanto alla segreteria dell'università ho trovato un annuncio in cui cercavano una ragazza a cui piacessero i bambini che sapeva disegnare, appassionata di moda ho pensato, ma sono senza lavoro, perché non provare? Quindi sono andata ed è andata bene Musica Ho sempre usato internet, da più o meno quando è nato internet in Italia e già da quando stavo al liceo avevo cominciato a tenere vari blog poi la piattaforma su cui stavo io è stata comprata di sperita quindi poi mi sono spostata su Blogspot e quindi ho continuato comunque a tenere un blog questo è perché sono una grandissima appassionata sia di internet che soprattutto di social media e in particolare di twitter e di facebook e non me lo sarei mai aspettato ma il facebook del Camilla Store è pazzesco, è seguitissimo l'account con l'ufficiale del programma allora mi sono aperta da poco anche tipo il mio account personale adesso mi vergogno perché se non mi sto facendo pubblicità da sola però mi piace tantissimo, mi piace soprattutto seguirlo e mi piace rispondere personalmente ai messaggi e ai commenti perché mi piace scegliere da me anche i vari contenuti che condivido sia sulla mia pagina che sul mio twitter Un saluto e un consiglio non sottovalutate l'internet, specialmente i social network perché sono importantissimi e da una che ha studiato anche web marketing se sapete utilizzarli bene avrete la chiave del successo Un saluto ai lettori di media e comunicazione, ciao